Salve, oggi ho voluto indossare la bandiera della mia organizzazione perché stiamo portando avanti una battaglia sacrosanta di coerenza che vede in primis quella che è la salute dei lavoratori nel mondo dei trasporti. Ebbene, pensavamo che nonostante tutto sia stato ciclato recentemente tra il ministro del lavoro e quanto riguarda il mondo delle associazioni industriali il protocollo per quanto riguarda le vaccinazioni nel mondo del lavoro dove tutte le aziende piccole, grandi, medie che si fanno avanti per poter vaccinare il proprio personale negli ambienti di lavoro. Ebbene, nonostante le nostre grandi iniziative e la nostra grande battaglia che stiamo portando avanti e con uno sciopero che abbiamo proclamato il 23 aprile, lo ribadiamo ancora una volta, con inizio alle 8.59 per finire alle 17 del pomeriggio, per dare risuonanza alla questione della campagna vaccinale dove ancora una volta, nonostante lo ripeto per l'ennesima volta, sia stato ciclato un protocollo ma che vede ancora escluso quelli che sono i lavoratori nel mondo dei trasporti. E poi si denuncia che il maggior pericolo è proprio nell'ambito dei trasporti per l'alta frequentazione che ci sia. E noi da qui vogliamo iniziare perché proprio il personale che viene continuamente esposto deve essere il primo passo da compiere e da vaccinare. E invece ancora una volta vediamo che noi lavoratori nell'ambito dei trasporti veniamo esclusi. Un protocollo d'intesa, ripeto, sia con il Ministro della Salute e con il Ministro del Lavoro, che è molto generico, non parla specificamente di alcune priorità. e per priorità intendo dire che proprio i lavoratori in questo momento dei trasporti dovrebbero essere in primis elencati. Ecco perché la nostra rabbia continua ad avere non una considerazione limite ma al massimo. Perché come si fa a non rendersene conto che c'è una categoria di lavoratori che viene continuamente esposti e che non viene tutelata per niente. Quindi ancora una volta noi ribadiamo che vadano riviste certe situazioni e che i lavoratori nell'ambito del mondo dei trasporti vengono inclusi in primis nella campagna vaccinale. non possiamo più continuare a sopportare queste umiliazioni e queste soprattutto discriminazioni perché vedono discriminati i lavoratori del mondo dei trasporti. Non è possibile più considerare una cosa del genere. Pensavamo che in questo protocollo qualcuno si fosse reso conto delle nostre continue rivendicazioni ma soprattutto denunce e soprattutto sensibilizzazione al mondo istituzionale. Ma dobbiamo verificare ancora una volta che tutto questo non è stato per niente recepito. Ed ecco perché ci vede ancora più diciamo presi da una grande rabbia e quindi a questo punto non possiamo più tollerare e quindi a questo punto apriamo un grosso conflitto con il mondo istituzionale perché abbiamo avuto l'ennesima prova che noi lavoratori nell'ambito del mondo dei trasporti non occupiamo quella priorità, quella importanza alla quale bisogna dare il giusto merito. Ed ecco perché ancora una volta noi diciamo basta con queste discriminazioni. I lavoratori e lo ripeto per l'ennesima volta nell'ambito dei trasporti in generale nessun tipo di trasporto nessun tipo di ciò che faccia parte di questo mondo deve essere escluso. Però vogliamo il nostro diritto che è quello della campagna vaccinale. Grazie e buona giornata a tutti.